Domodossola come Bognanco non vuole la fusione dei due comuni, almeno non la vuole questa amministrazione. Lo ha detto con il voto contrario all'ordine del giorno presentato dal PD che chiedeva al sindaco Pizzi di intavolare una trattativa con il collega Valentini. Per la verità l'argomento è arrivato sui banchi consigliari dopo un lungo dibattito sui miglia locali durante l'estate. L'ordine del giorno, a firma di Rosario Mauro e Davide Bolognini, è stato presentato diversi mesi fa. L'emergenza sanitaria ne ha posticipato la discussione sino ieri sera. È stato uno dei punti non tecnici affrontati dal Consiglio Comunale. Mauro, illustrando il documento al Consiglio, ha parlato dei vantaggi fiscali derivanti dalla fusione e ha sottolineato i benefici turistici che avrebbero portato a Domodossola a freggiarsi della dicitura di Città Termale. L'ordine del giorno è stato bocciato dalla maggioranza. Il primo no è arrivato dalla consigliera forzista. Marina Oliva, ricordato come i vantaggi fiscali quando concessi, non vanno oltre il limite dei due o tre anni. Si perderebbero tradizioni importanti, ha tuonato Oliva. Alle sue parole si è accodato anche Carlo Valentini. L'ex presidente del Consiglio Comunale ha motivato il suo no. Bognanco verrebbe semplicemente inglobata a Domodossola, inimmaginabile. Si motivato, quello arrivato dalle consigliere 5 Stelle. Simona Pedroli ha spiegato, siamo favorevoli a patto che i due comuni siano d'accordo e sia tutelata la posizione di Bognanco. A mettere la parola fine alla discussione sono intervenuti prima Fabio Patelli, Lega, poi Gabriella Giacomello, ISTA, sindaco. Contrario oppure il presidente del Consiglio, Gianluigi Bottaro. Ultimo intervento, quello del sindaco Pizzi. Andiamo oltre le ragioni delle parti, ha richiamato. C'è un dato che non deve sfuggirci. Bognanco, non vuole nessuna fusione.